Sequestrato un milione di euro in polizze vita Gianfranco Fini. Lo ha fatto il Cicco della Guardia di Finanza su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nell'ambito dell'inchiesta che vede l'ex presidente della Camera e tutti i parenti di sua moglie indagati per vari reati tra cui anche il riciclaggio per una serie di affari con il ride videopoker Francesco Corallo. I magistrati, nelle loro motivazioni scrivevano nero su bianco che Fini e la compagna erano ben a conoscenza della provenienza del denaro di Corallo. Una storia che ha a che fare anche con la casa di Monte Carlo, un immobile di anche per un giro immobiliare Fini nella mani del cognato di Fini, Giancarlo Tuliani. E la vicenda segnò, di fatto, la fine politica di Fini. Secondo gli inquirenti il sequestro di oggi trova fondamento nella centralità progettuale e decisionale assunta da Fini nella vicenda. L'ex presidente della Camera in questi casi si è sempre dichiarato innocente. Ha ripetuto più volte di non sapere quali affari i suoi parenti avessero messo in piedi con Corallo. Ha persino detto, magari sono un coglione, ma non un disonesto. La procura di Roma, a quanto pare, è convinta di tutt'altro.